Nel brano di Vangelo i discepoli vedono Gesù pregare e molto probabilmente restano affascinati da questo e li chiedono, Signore insegnaci a pregare. Ma Gesù avrebbe potuto cominciare da diversi aspetti, invece decide di lasciare loro e di lasciare a noi una preghiera, quella del Padre nostro, quasi a suggerire questo. La prima cosa che dovete avere chiaro quando pregate è a chi vi state rivolgendo, non ad un padrone da tenere buono, bensì a un Padre che vi ama così come siete, che poiché ci tiene il vostro bene e la vostra felicità vi sprona a camminare su vie buone. Il Padre nella cultura dell'epoca è colui che trasmetteva al figlio tutta la propria vita, tutta la propria esistenza, quindi si riconosce in Dio la fonte della vita, colui che ha a cuore il nostro bene, la nostra felicità, che non vuole ostacolarci ma aiutarci, sostenerci, incoraggiarci, allora ci si rivolge proprio chiamandolo Padre. Come mi piace spesso fare l'etimologia delle parole ci aiuta a comprendere meglio proprio il loro senso. Padre ha la radice di pascere che significa nutrire, proteggere. Quando ci mettiamo davanti a Dio non siamo dinanzi a qualcuno che ci vuole sovrastare o farci sentire indegni ma siamo davanti a qualcuno che ci accoglie, che ci fa sentire a casa, pensati, amati e non abbandonati o dimenticati. E lo stesso possiamo dirlo per la madre di Dio e non è un caso che la definiamo madre, non solo perché ha permesso a Gesù di farsi uomo ma perché è madre di ogni uomo e di ogni donna. Perciò quando ci rivolgiamo a lei dobbiamo aver chiaro che ci stiamo indirizzando a qualcuno che ci tiene a noi, che ci accoglie, che ci ama, che sta dalla nostra parte. Chiediamoci allora con quale atteggiamento preghiamo, con quale atteggiamento ci mettiamo davanti a Dio e davanti a Maria. Crediamo di stare davanti a dei giudici, a dei padroni, da tenere buoni a suon di preghiere e di devozioni oppure ci rivolgiamo a Dio e a Maria, dedichiamo dei momenti per stare con Dio e con lei perché sappiamo che questo ci fa bene, perché ci fa sentire accolti, amati, sostenuti. C'è un po' di familiarità quando prego Dio, quando prego Maria oppure penso di essere davanti a degli estrani, a dei giudici, a dei padroni, a delle persone che sotto sotto non me la raccontano giusta. Come vivo la preghiera? Da figlio o da schiavo? Prego per la bellezza di incontrarmi con Dio e con Maria o per guadagnare la loro stima, il loro favore, la loro approvazione? Chiediamocelo. Buona riflessione, buona giornata.